Salve a tutti, in questo video vi insegnerò come disegnare il rorono azzurro. Allora, come prima cosa bisognerà fare un quadrato. Un quadrato più o meno così. Ora ritorniamo al nostro disegno. Allora, dopo aver fatto un quadrato 4x4 diviso in quattro parti e nella parte sinistra più in basso diviso a sua volta in quattro parti, potremmo iniziare con il nostro disegno. In questo caso ne ho fatti due, mi sono dimenticato del terzo. Vabbè, allora, come prima cosa inizierei col fare la forma del volto. Allora, per fare la forma del volto bisogna fare un tratto così, che arriva quasi fino alla parte più alta del quadrato, che sarebbe questo. Poi, successivamente, dopo essere arrivati più o meno a questo punto, si continuerà a fare la forma del volto fino ad arrivare qui. Questa parte qua non c'è bisogno che venga modulata perché poi verrà cancellata. Poi, dopo aver fatto la forma del volto, si farà un'altra linea, che poi andrà qua, dove si farà appunto l'orecchio. Se si vuole, si può anche evitare di mettere il cappello in questo disegno. Allora, in questo caso, in questo disegno appunto c'è il cappello. Per chi non lo vuole fare, mi faccia sapere nei commenti. A questo punto dedicherò un altro video per fare un altro zoro senza cappello. Allora, per aver fatto la forma del volto, ho preso metà cappello, più o meno fine qui e fine qua. Inizierei con il volto, appunto con gli occhi, con il naso, con la bocca, eccetera, eccetera. Allora, con la prima cosa, io faccio o l'occhio o il naso. Allora, iniziamo dal naso, dove appunto andrà più o meno fine qua e andrà vicino alla parte dove andrà la spada. Poi successivamente si andrà a fare l'occhio, che va vicino al cappello e anche quest'occhio dove appunto già si è fatta la cicatrice. Per chi non voglia fare la cicatrice, si potrà fare un altro occhio qui. Allora, il naso andrà più o meno attaccato alla bocca oppure poco distante. La bocca servirà per sorreggere la spada, facendo più o meno questa bocca un po' ondulata. Poi, i dettagli. E nella parte più in basso, appunto, una cosa che faccio io è mettere la parte finale della bocca. Poi, qua, se non mettere qualche dettaglio nell'orecchio, è la basetta, appunto, di Zoro. Poi, dopo, io andrei a completare il cappello, che dovrebbe arrivare fino a questo angolino qua. Però, dato che è un fattore anche a volte stilistico, per non farlo arrivare fino a questo punto. Perché sembra più normale. Allora, poi, una volta completata la forma del cappello, che sarebbe più o meno la forma della testa, si andrà a fare questi capelli che, appunto, fuoriescono dal cappello. Poi, dopo aver fatto gli orecchini, che dovrebbero essere tre, però, per sbaglio, ne ho fatti due. Poi, si andrà a fare la spada. Però, queste cose qua le farò in un prossimo video. Ditemi se volete che io faccio questo prossimo video per, appunto, continuare la spiegazione. Ciao! Ciao!